Bentornati alla vostra intervista a doppi. Ciao ragazzi, ciao Meku, ben ritrovati. Partiamo con le domande. Lui mangia i biscotti, io brindo alla serie A. La passione, i biscotti sono proprio una passione. Che buono che lo champagne. Vai, vai. L'obiettivo salvezza è stato raggiunto con una giornata d'anticipo sulla fine del campionato. Soddisfatto? Ovviamente soddisfatto, si vede. Non festeggio, non c'è niente da festeggiare. Il minimo sindacale è stato raggiunto, ma comunque ciò che mi conforta è che la mia squadra, quantomeno l'anno prossimo, la rivedrò giocare in serie A. Rispondo con una domanda. Se non sono soddisfatto, sono rimborsato. Scusate. Cin cin. Dai un giudizio del pareggio del Torino con il Chievo. Ho la bocca piena, con questi biscotti non riesco più a rispondere. È maleducazione, non fatelo parlare oggi. Abbiate pazienza. Soddisfatto il pareggio col Chievo, sì. Vuol dire che con la matematica il Torino è salvo. Però cin cin. Secondo te, chi è stato il migliore in campo fra Granata? Beh, il migliore in campo fra Granata sicuramente mi è piaciuto tantissimo Cerci, che forse magari ha voluto dimostrare ancora una volta il suo valore, la gratitudine per essere stato trattato a Torino benissimo, cosa che a Firenze assolutamente non è stata fatta. Comodo adesso per loro dire lo rivolgiamo. Quindi Cerci. Doria. E il peggiore? Non ci sono stati peggiori. È impossibile fare graduatorie nel bene e nel male. Le ultime due partite sono N-N-G, non giudicabili. Secondo me... Occhio e le tibriacchie a farsi bene sta roba. Il gruppo ha raggiunto la salvezza. Migliori e peggiori, fare dei nomi, non c'è stato, non c'è stato. Tutti bravi. Anche con il Chievo il modulo utilizzato è stato il 5-3-2. Ti sembra che sia più adatto del 4-2-4? Sì, se l'avessimo adottato prima avremmo finito a 45 punti questo campionato. Il modulo migliore è il 4-4-7. 4 dietro, 4 a centro campo, i due attaccanti e i cinque arbitri. È il migliore in assoluto quello. Eh ma non riuscivo mai a comprare... Ti dico qual è il modulo che secondo me è più redditizio. Il 19 maggio ci sarà in marcia per il fila. Tu parteciperai? Finalmente una domanda seria. Ovvio che partecipo. Perché qui finalmente si inizia a parlare di Toro. Abbiamo smesso di parlare di cose che col Toro non c'entrano niente e iniziamo a parlare di qualcosa di serio. Certo che ci sarò e secondo me è dovere di ogni buon Granata esserci perché questo è il momento di dimostrare a tutto il mondo che ci siamo, che siamo vivi e che sappiamo con esattezza e con chiarezza che cosa vogliamo. Basta... Cioè vogliamo il Filadelfia? No, basta. Ah, il biscotti. Basta biscotti sportivi e politici. Sono anni che lottiamo per il Filadelfia e quindi mi pare che non ci si possa adesso sottrarre all'ultimo atto. Quindi l'unica cosa che io posso dire seriamente è che non avrei mai creduto che saremmo dovuti ritornare a questo punto dopo 18 anni. Cioè ritornare per strada per poter far arrivare nuovamente la nostra voce. Questo la dice lunga, su quello che invece altri in pochissimo tempo hanno raggiunto come obiettivi vergognosamente, fatemi anche dire, a discapito anche dei cittadini. Ma gli altri non hanno messo un milione, hanno messo un po' di più. No, no, ma io parlo della parte politica in questo caso qua, perché comunque 350 mila metri a 50 desi metro quadro ne avrei voluto un pochino anch'io per farci la mia casa. Che tipo di gara ti aspetti con il Catania? Basta bere che tu ubriachi. Io mi rendo conto che in questi ultimi tempi per vedere il Torino sia utile essere ubriachi, però non bisogna neanche esagerare. Secondo me con Catania vinciamo. Vorrei che nell'ultimo atto ci fosse una dimostrazione di affetto verso ciò che rappresenta per noi Torino. Ti rispondo come mi ha risposto Valeria su Facebook. Mi ha detto, verrò alla marcia ma poi non vado allo stadio. Me ne vado a casa perché non ho nessuna intenzione di rovinarmi una bellissima giornata. Poiché la salvezza è stata raggiunta, pensi che sia giusto che in campo vadano i giocatori che finora sono stati utilizzati meno? Oppure è giusto concedere la pasterella a chi ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo? Se è una partita seria mettiamo in campo sti giovani che vediamo di che forza sono. Se invece è una partita così, un trotterellare per il campo per 90 minuti, ma metta chi gli pare. Se vogliono giocare loro tre va bene lo stesso. Ci saranno sicuramente delle belle azioni, ci saranno secondo me dei gol e sarà una partita all'insegna dello sport e spero che non sia uno scapoli ammogliati perché non avrebbe senso come non hanno avuto senso altre situazioni. Domenica ribadisco, una gran bella festa sugli spalti e in campo che sia sport. Il tuo pronostico per Torino-Catania 2-0 per il Torino È una partita da triplo Abbiamo finito, volete dirvi qualche cosa? Che il prossimo anno sia migliore di questo, perché questo veramente non si poteva guardare Credo nelle persone, credo nel futuro, credo in me stesso e credo nei tifosi del Torino. E lui ha detto che dovrà essere sicuramente meglio e io invece aggiungo che sarà sicuramente meglio. Vi aspetto tutti domenica mattina a 11 e mezza a Piazza Solferino Forza Toro e Forza Fila Ciao Oh è finito tutto Alla mangiati tutti